Oh, una stanza tranquilla, finalmente, mi sono che stiamo impiccato per falsificazioni, giustizia e vendetta sono state fatte, allora, falsificazione, stiamo impiccato per truffa, allora, falsificazione, truffa, il fatto che devo scrivere roba è tantissimo, mi diverto un sacco, giustizia e vendetta sono state fatte, incendio, poi, furto, omicidio, omicidio, e questo, rapimento. Ok, io cosa vi dovrei fare di bello? Ah, sono stati, questo uomo è stato impiccato, ah, impiccato, io devo scegliere tre, sono da mettere in quelle corde, però se tanto mi dà tanto, forse è collegato a questo. Ti offro sangue per riparare i tre peccati. Oddio, non mi ricordo ora quali erano, madonna. Comunque c'è, c'era quello ingordo, che sarà furto, forse, poi c'era quello che comandava, che potrebbe essere truffa, e quell'altro mi potrebbe essere un rapimento. Falso, eh, bisogna vedere, bisogna vedere, andiamo avanti, intanto. Ah, ok. Morti, morti appese, all'albero delle pere, quanti impiccati riesci a vedere, lingue ormai blu e volti dal grigio pallore, guarda gli dondolare, non sentono per alcun dolore. Prima ha ucciso il macellaio locale, l'ha fritto in padella con un po' di guanciale. L'ho dato impasto ai suoi ospiti a cena, che siano solo gustato fino all'ultima vena, quindi mangiare. Un altro armato di sorriso e caramelle della stava rubava delle povere bambinella, dei veri e propri barbo al blu le vendeva in schiavitù. Durante una notte si è intrufolato, ma il lato è rimasto fregato, si è bregato allo scemotto e indomani si è svegliato galeotto. All'artista certo non manca l'impegno, sforna banconote senza ritegno. Ah, truffa allora. Hanno omicidio e mangiato, ma che cretino. E questo che mangia, uno, due, tre, questa è la quattro. Senza ritegno e pioggia infragilante, l'ha colto quando l'inchiesto delle uova, delle uova che usava si è disciolto, quindi banconote. Per avere le tasche piene ruba l'oro che non gli appartiene, nascosto il suo bottino scappa nella notte il furfantino. Non è sempre tu, è sempre oro, è sempre furto. Tre case bruciano come aree? Ci rifiua un sacco di fare, vede un foresterio in città orecchio, devi togliere la libertà. Quindi a tre case. No, ho saltato l'ultima, cacchio, allora. Lungo sei piedi e largo sei uomini, non finge intorno al loro collo, il cappio stretto si stringe. Eh sì, ho capito, ma che devo fare? Ah, ok. Eh, devo tirarla, ma con quale criterio, scusa? Solo il senza peccato può aiutarti qui. Tira per sbaglio la corda di un criminale? E la tua rincompensa ti sarà resa sotto sembianze strane e fantastiche. Qui senza peccato potrebbe essere solo il truffatore, perché... Ah, andiamo un po'. Questo l'ho ucciso, e va bene, quindi omicido no. Questo no, perché... Forse il ladro, perché... Eh, beh, però non ha rubato niente. Ma l'attesa è detto, ma che il sforno va ancora senza ritegno. Ma l'attesa è accolta, ma l'incorso l'ora si è sciolto. Avere le tasche cani ruba l'oro e non gli appartiene. Nascolto il subottino scappa, una volta è il furfantino. Eh, anche questo scappa. Ah, lui, l'incendiario. Eh, perché l'incendiario... Non l'ha preso. Perché era innocente. Ma James, non è che deve esagerare con l'immedesimazione, eh. Basta? Scusate, eh. Vediamo un po', perché allora, una ho tirata e sembra giustissima. Qui vediamo dove siamo a finire. Ok. Ok, limone, le manette, perfetto. La bisogna sbrogliare lì, quella lì. Torniamo un attimo nella stanza dei cadaveri. Vediamo se è successo qualcosa. Oh, sapevo tanto, no? Vabbè, sulla chiave è del perseguitato. Ingiustamente giustiziato. Oh, infatti. Allora, c'ho molta voglia di tirarle tutte e lo faremo salvando prima, così almeno... Però sono stati forti, dai. Cioè, sono stati forti. Torniamo di nuovo. Ok, tiriamole tutte. Ah. No. Volevo tirarle. Vabbè, credo sia inutile a tirare.